Assessore, che tipo di intervento verrà realizzato e quali sono le necessità? Allora, dal lunedì 21 novembre il canale andrà in secca e lo sarà per circa un mese perché Enel Green Powell deve realizzare una serie di interventi di manutenzione sul lato di sponda parallelo a Viale Buozzi. Sono interventi di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari dopo quelli sul lato di Viale Kennedy e saranno interventi che appunto richiederanno la messa in secca che avverrà con l'abbassamento graduale dell'acqua lungo il canale industriale. L'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano nel frattempo ha prealertato le associazioni firmatarie del patto che è stato stipulato per la salvaguardia della fauna e della vifauna proprio per poter garantire in sicurezza il benessere degli animali anche in presenza della secca del canale almeno nella parte finale del canale Albani. Al tempo stesso Enel Green Powell con un'associazione specializzata come già avvenuto anche in passato raccoglierà invece tutta la fauna ittica per portarla invece nel fiume Metauro e garantire quindi la sua sopravvivenza anche nelle settimane di secca in cui la parte finale del canale Albani sarà interessata ai lavori di manutenzione. Esattamente qual è il tratto che verrà prosciugato? Allora la parte che andrà completamente in secca sarà quella finale del canale Albani quindi quella ricompresa per intenderci tra Viale Buozzi e Viale Kennedy. Ovviamente la secca di questa parte comporterà un abbassamento importante di tutto il canale industriale almeno dal tratto di Sant'Orso in poi. Tuttavia è un'occasione anche per una pulizia straordinaria del fondale in particolare nel tratto finale nel senso che ovviamente si sfrutterà l'occasione della secca anche per rimuovere tutti gli elementi più voluminosi che sono presenti e depositati come avviene ciclicamente lungo il canale. È un'occasione e nel Green Power come sempre si è resa disponibile per questo tipo di intervento.